Li consideriamo armati ed estremamente pericolosi. Identificarli e localizzarli al momento è la nostra priorità numero uno. 72 ore dopo l'attentato di Boston, l'FBI rende pubbliche foto e video di due persone sospette e chiede aiuto al pubblico per dare loro un nome e una storia. È caccia all'uomo, o meglio, due uomini, apparentemente tra i 20 e i 30 anni, entrambi di carnagione bianca, entrambi con un cappello da baseball particolare che servirà per distinguerli. Il sospettato numero uno ha cappellino e zaino scuri, il sospettato numero due cappello e zaino chiari. È lui quello che sembrerebbe aver posato un ordigno, ma il condizionale resta d'obbligo. Se li riconoscete e chiamate noi, non dovete neanche lontanamente pensare di farvi giustizia da soli. La raccomandazione dell'agente speciale che coordina le indagini e che comunque torna a sottolineare ora non c'è alcuna minaccia. Una svolta nelle indagini, nel giorno in cui Boston celebra le vittime e i soccorritori, con una funzione interreligiosa, presente il Presidente degli Stati Uniti. Per l'arrivo di Barack Obama a Boston imponenti le misure di sicurezza, dai cani anti-esplosivo alle squadre speciali, dai camion pieni di sabbia, avete alle mie spalle, che chiudono le sali di accesso a Washington State, dove si trova la cattedrale di Santa Croce, fino alla richiesta dei residenti di tenere chiuse le finestre lungo tutto il percorso presidenziale. In chiesa l'ex studente di Harvard assicura quello che è successo lunedì è qualcosa di personale e avverte i colpevoli. Vi troveremo e veriteremo responsabili, ma rimarremo fedeli al nostro stile di vita, per una società aperta e libera, in cui crescere più forti. Infine, tra gli applausi, Obama scandisce. Noi finiremo la corsa. Liliana Faccioli-Pintozzi, Schettig24, Boston.